Ok, proseguiamo nella discussione, nello studio dell'elettromagnetismo. Abbiamo visto le proprietà del campo magnetico. Adesso affrontiamo la parte relativa all'interazione tra le correnti elettriche e i campi magnetici. Ok, questa è la solita introduzione. Il primo fenomeno che mostra come il campo magnetico abbia effetto sul corrente e viceversa, cioè l'interazione magnetica e correnti elettriche, è l'esperimento di Ørsted. In realtà c'è stata una precedente relazione pubblicata sui visti locali di Romagnosi in Italia che era un avvocato, in realtà si occupava per suo interesse personale di fisica ma non venne mai pubblicata e quindi il merito è andato a Hans Christian Neustadt che in realtà l'ha scoperto per caso. Stava preparando gli esperimenti per una lezione e si è accorto che l'ago che vedete nella figura, l'ago della bussola subiva dei movimenti e delle deflessioni se era in prossimità di correnti elettriche che venivano accese e spente. Questo è un esperimento chiave, un'esperienza cruciale perché apre le porte all'indagine più approfondita che è venuta in seguito dell'origine fisica cioè di qual è il processo fisico che porta alla nasce del campo magnetico. Abbiamo già visto che magneti interagiscono con magneti il calamite con polarità opposta si attraggono con polarità uguale si respingono se lo stesso avviene quando una calamite è vicina a una corrente elettrica significa in qualche modo che anche la corrente elettrica produce un campo magnetico. Non c'è altra interpretazione possibile. E qui c'è un breve filmato che vi mostra l'esperienza che verifica l'esperienza fatta da Örsted anche se in ambienti più moderni ovviamente. Non so se si sente l'audio Qui vedete che c'è il filo attaccato a dei morsetti alla corrente e quando si accende la corrente l'ago viene deflesso. Una cosa che a priori uno non si aspetterebbe. Lo possiamo rivedere. Qui vedete c'è l'interruttore il filo attaccato a questi due morsetti che la corrente passa in questo filo metallico accedendola e spegnendola il filo viene deflesso. Noi deduciamo che un filo percorso da corrente è una sorgente di campo magnetico. Come facciamo a visualizzarlo? Beh, qui abbiamo uno schema dell'esperimento di Örsted qui c'è la pila, l'interruttore e l'ago della bussola. Un modello per visualizzare il campo magnetico prodotto dal filo percorso da corrente è quello di usare della solita limatura di ferro. Qui avete una foto un po' sbiadita ma spero che si riesca a vedere dei polveri di matura di ferro su un piano perpendicolare al filo percorso da corrente e vedete che la limatura assume delle linee circolari. Il campo magnetico quindi prodotto da un filo percorso da corrente ha una struttura di questo tipo ha una simmetria cioè se vedete la figura più in alto assiale con linee di campo che sono circolari e anche qui c'è la convenzione della mano destra quindi se mettete il pollice nella direzione del filo percorso da corrente questo qui in alto verso il basso allora le dita della mano destra vi danno l'orientazione delle linee di campo. Se la corrente va dall'alto verso il basso le linee come le vediamo da sopra sono in senso orario se invertissimo la corrente e andasse dal basso verso l'alto le linee sarebbero in verso anti-orario e comunque hanno tutte questo è importante una simmetria circolare che sono dei cerchi centrati nel punto in cui il filo fora o passa attraverso il piano nel quale stiamo esaminando le linee di forza ok questo è un altro modo per illustrare questa cosa ecco la regola della mano destra mettiamo il pollice nel verso della corrente e le dita ci indicano qual è l'orientazione delle linee del campo elettrico qui in particolare se abbiamo la corrente che va verso l'alto nel punto a sinistra il campo magnetico è uscente nel punto a destra è entrante e sono tutte fatte come delle circonferenze ok sperimentalmente poi si può andare a misurare l'intensità del campo e si può vedere che il campo magnetico B prodotto dal filo percorso da corrente I ha un'intensità che è proporzionale direttamente proporzionale all'intensità della corrente I è inversamente proporzionale alla distanza dal filo quindi al raggio della nostra circonferenza che costituisce una delle linee di forza del campo quindi man mano che mi allontano dal filo le linee di forza sono via via più diradatte perché sono meno dense quindi il campo è meno intenso questo K questa costante prende la funzione di mettere d'accordo con l'unità di misura ed è legata anche all'ambiente al mezzo in cui l'esperimento viene fatto se nel vuoto o se in presenza di materiale detto questo un'altra interazione fondamentale è quella inversa se volete di quella di Hursted abbiamo visto che torniamo alla figura di prima se ho una bussola quindi un magnete naturale permanente quello che sia vicino alla corrente elettrica la corrente elettrica produce un campo che ha effetto sul magnete ok è immediato chiedersi se vale anche l'inverso cioè se la corrente elettrica subisce l'azione di un magnete e questo lo vediamo in questa figura abbiamo una magnete naturale qui c'è il polo nord qui c'è il polo sud quindi il campo magnetico va da sinistra verso destra ok e nella zona in cui c'è questo campo magnetico indicato dalle linee rosse qui ahimè la forza ha lo stesso colore delle linee di forza di campo ma pazienza passa un filo percorso da corrente eccolo qua che fa parte di un circuito qui c'è la batteria buona notte comunque un'intensità di corrente costante ok è chiaro che come il filo percorso da corrente produce un campo magnetico e quindi ha effetto su magneti naturali sui calamite una volta che immergo il filo percorso da corrente in un altro campo magnetico ok anche questo filo subisce l'azione magnetica perché beh ecco per conseguenza della forza di Lorenz perché la corrente elettrica che passa nel filo non è altra che il fatto che da portatori di carica dei micro portatori di carica i quali ognuno di questi subisce la forza di Lorenz e quindi se immagino di avere le cariche che vanno nel verso della corrente ok nel campo magnetico immaginatevi che la corrente I che è questo vettorino azzurro vi dia il verso della velocità delle cariche immaginiamo le positive per semplicità allora il vettore prodotto vettoriale V vettore B in questo caso V è parallelo a I vi da una forza diretta verso l'alto anche qui sempre regola della mano destra quindi il filo percorso da corrente se io immergo un filo percorso da corrente in questa zona dove ho campo magnetico subirà una forza verso l'alto la forza tanto più intensa quanto più intenso sarà il campo magnetico e quanto più intenso sarà la corrente in realtà come vediamo tra un attimo conta anche quanto il filo è lungo cioè quant'è la parte di filo immersa nella corrente vediamo per il che immaginate qui avete una figura dove ci sono queste X che rappresentano un campo magnetico diretto verso il foglio entrante nel foglio qui ci sono due fili carichi che portano corrente e la corrente ha il verso indicato da questo vettorino rosso non so se lo vedete quindi ripeto il campo magnetico entra nel foglio la corrente è diretta verso destra quindi se immaginate la velocità delle cariche diretta come I allora I vettor V vi da una forza diretta verso l'alto questa FM è una forza magnetica ok addirittura posso fare in modo che la forza magnetica immaginate che questo filo sia disposto verticalmente che sia appeso verticalmente con questo sistema questo può anche bilanciare addirittura la forza peso questo mi sembra che sia anche uno dei problem solving del libro andiamo a vedere più in dettaglio la relazione che lega forza corrente e campo magnetico immaginate che nel nostro pezzo di circuito diciamo questa sbarra metallica si allunga L ok e questa è attraversata da una corrente I la corrente I non è altro che la carica che percorre il filo diviso il tempo impiegato per percorrere il filo immaginate che la carica Q sia quella contenuta in tutta la lunghezza del filo ok quindi è una carichina piccola per andare da sinistra a destra serve un tempo delta T che è uguale alla lunghezza del filo diviso la velocità di ciascuna carica la velocità diciamo così macroscopica quella che dà luogo alla corrente non la velocità dell'agitazione termica ma quella la velocità ordinata che fa sì che ci sia la corrente elettrica quindi la lunghezza del nostro la nostra sbarra metallica posso prenderla come la velocità di ciascuna carica la velocità di spostamento delle cariche per il tempo necessario ad attraversare tutta la sbarra metallica quindi posso scrivere la corrente come la carica che impiega quantità di carica che attraversa l'intera lunghezza del filo diviso il tempo necessario ad attraversarlo e questo può si inserirlo nella forza di Lorenz abbiamo già visto a suo tempo scusate che su ciascuna carica in moto in un campo magnetico agisce una forza F che non è altro che il prodotto vettoriale di V vettore B per la carica Q qui lavoriamo con grandezze scalari cioè ho già proiettato con il seno quindi abbiamo V Q V B sen alfa se V e B non fossero perpendicolari l'alfa è l'angolo formato dal vettore V e dal vettore campo magnetico B ma al posto di Q posso utilizzare questa relazione cioè il fatto che la carica è data dalla intensità di corrente per il tempo di attraversamento della sezione del filo basta invertire la relazione che c'è qui in alto quindi posso esprimere la forza di Lorentz come intensità di corrente per tempo di attraversamento del filo per V B sen alfa qui anche qui con un minimo di algebra V per delta T è la lunghezza proprio del filo cioè la parte del filo che subisce la forza magnetica la parte del filo immersa in campo magnetico e quindi abbiamo i V delta T fa L lunghezza del filo per B per sen alfa di conseguenza abbiamo che la forza possiamo adesso tornare alla forma vettoriale della forza la forza F che agisce su un filo di lunghezza L percorso da corrente I vale l'intensità della corrente che abbiamo rispetto alla cosa di Coulomb al posto della carica per la lunghezza del filo qui L ha il vettore perché beh prendo questo vettore L come un vettore di lunghezza pari alla lunghezza del filo è orientato come la corrente cioè come il verso delle ipotetiche cariche positive che percorrono il filo e quindi producono la corrente moltiplicato vettorialmente per il campo magnetico B e questo se osservate bene qui abbiamo il campo magnetico entrante la corrente diretta verso destra quindi L diretta verso destra e produce una forza che qui è indicata da questo vettore da questo vettore verde ok immagino che potremmo per esempio andare a fare qualche esercizio se ci sono domande no ok ecco ci siamo allora abbiamo visto qual è la forza che agisce su un campo su un filo di percorso da corrente immerso nel campo magnetico proviamo a fare questo esercizio numero 31 a pagina 346 qui dice la forza magnetica esercitata su un filo lungo 1,2 metri è di 1,6 newton il filo è percorso da corrente di 3 ampere ed è emesso nel campo magnetico di 0,5 tesla qual è l'angolo tra il filo e il campo magnetico qui abbiamo visto che se abbiamo ecco similiati questo che sia il filo percorso da corrente I questo tratto di filo è lungo L ok immaginate che il campo magnetico sia diretto facciamolo in blu in questo modo questo è B questo è il vettore L qui c'è l'angolo alfa in questo caso la forza il vettore B è diretta verso l'alto perpendicolarmente al piano dove c'è B e dove c'è questo F ecco vale corrente elettrica I lunghezza del filo L campo magnetico B seno dell'angolo tra i due vettori L e B ok vettorialmente F E il vettore B qualche volta si può anche vedere in qualche testo che mettono il vettore sulla corrente ma io preferisco in analogia alla forza di Coulomb di Lorenz avere la corrente che quindi con l'ispettivo della carica da sola isolata in scalarmente qui riconosciamo di questa relazione conosciamo tutto conosciamo la forza la corrente L e B ci manca l'angolo quindi risolviamo questa rispetto a sen alfa quindi seno di alfa vale F fratto I L e B e quindi l'angolo alfa non è altro che il seno inverso della forza sui L e B tutte nel sistema internazionale calcoliamo quindi prima il seno di alfa quindi F fratto I e L e B quindi al numeratore abbiamo 1,6 Newton la corrente I era 3,0 ampere la lunghezza del filo 1,2 metri 1,2 metri che era ancora 0,5 Tesla quindi qui abbiamo con le curatrice la mano 1,6 diviso 3 diviso 1,2 diviso 0,5 se viene circa siamo fatti quali bene 0,8 periodico fatemi rifare 2,3 1,2 più ancora 0,5 se quindi l'angolo alfa è il seno inverso di 0,8 periodico e viene circa il seno inverso è questo circa 62,7 gradi 63 loro dicono si approssimando l'unità è che 63 ok qui è chiaro che se inverto per esempio B o I la forza cambia diverso cambia di segno ok proviamo anche il 34 vediamo se riusciamo a catturare il 34 eccolo qui l'esercizio e abbiamo a pagina 347 l'esercizio dice una satturale barrette di rame lunga 3,6 metri questa quindi è la lunghezza della sbarretta l'esercizio ha una massa pari a 0,75 kg ed è appesa a due fili conduttori flessibili se la barretta è immersa nel campo magnetico B di intensità 0,84 tesla diretto come mostrato in figura quindi qui è diretto verso l'interno del foglio qual è la corrente minima in grado di sollevare la barretta quale deve essere il verso della corrente ok allora qui abbiamo il la barra è sottoposta a due forze ho fatto mi cancellare questo per adesso c'è la forza peso che è uguale alla massa della barra per l'accelazione di gravità G e c'è l'eventuale forza magnetica che per bilanciare il peso deve essere diretta verso l'alto noi abbiamo bisogno la forza minima necessaria a sollevare la barra è fm maggiore uguale del peso d'accordo se il campo magnetico è verso l'interno ok fatemi fatemelo disegnare qua a fianco qui ho la barra ok e qui ho il campo magnetico in verde verso l'interno immaginate la figura in tre dimensioni e voglio che la forza sia diretta verso l'alto la forza l'avevo disegnata in rosso eccola qua allora per fare in modo che vi ricordo la leggera f che vale corrente i vettore l moltiplicato per b quindi l'orientazione della corrente che deve essere fatta in modo che usando la legge della mano destra la forza è verso l'alto quindi in questo caso il l'orientazione della corrente fatemela scrivere in blu è diretta da sinistra verso destra e così si mette le dita della mano lungo la corrente questo è l e vado ruoto le dita verso b la forza è verso l'alto quindi in queste condizioni la corrente è da sinistra verso destra questa è la nostra i ok e qual è la corrente minima allora la corrente minima è fissata dalle condizioni la forza magnetica deve eguagliare o superare la forza peso ma la forza magnetica vale i b i l per b qui supponiamo che alfa sia 90 gradi ok perché la barretta orizzontale il campo magnetico è perpendicolare al foglio quindi tra di loro c'è un tango di 90 gradi quindi il seno vale no questo deve essere questa è una i maggiore o uguale di mg dove g è 9,81 metri al secondo quadrato quindi la corrente minima è data da mg fratto l per b ok quindi tutte le correnti i che hanno almeno questo valore riescono a tenere in equilibrio o addirittura a sollevare la barra quindi la nostra i minima vale la massa della barretta che è 0,75 kg per 9,81 metri al secondo quadrato diviso la lunghezza dell'asta della barra che era 3,6 metri per il campo magnetico b che misurava 0,84 tesla otteniamo in ampere 0,75 per 9,81 diviso 3,6 e diviso 84 4 che viene circa 2,4 3 3 ampere ok e poi chiedeva il verso ma il verso l'abbiamo già visto e il verso è verso destra d'accordo d'accordo domanda mi seguite tutto chiaro qui ok la domanda è questa è questo che di solito di solito questi esercizi ignorano questa parte però secondo me è importante che cosa succede ai due fili di sospensione della della nostra barra metallica cioè se vogliamo se volessimo andare in laboratorio e realizzare veramente questo esperimento cosa dovremmo fare beh devono prendere una calamita fatemi fare il disegno qui ecco questa è la nostra calamita se vogliamo che il campo sia orientato come nell'esercizio qui c'è il nord poi qui c'è il polo sud quindi il nostro campo magnetico disegnato in verde a questa direzione ok dopodiché prendiamo il nostro filo lo facciamo a disegnare in blu e lo mettiamo per una lunghezza L dentro il campo magnetico orientato verso destra però questo filo viene da qualche parte cioè qui ho i due fili che lo tengono sospeso e qui per farci andare se voglio che la corrente vada a destra questa deve andare verso il basso questa verso l'alto e quindi qui devo mettere un polo positivo di un generatore e qui il polo negativo ok ma anche queste queste parti di filo sono immerse nel campo magnetico che ne è della forza su questi cioè quale forza agisce su questi qui beh qui cosa abbiamo il campo magnetico diretto verso fatemelo ridisegnare in questo modo il filo diretto verso il basso e qui L vettor B che è qui in questo punto la forza F il vettore B è diretta se usate la forza della legge della mano destra come vedete è diretta verso destra ok dall'altra parte ho il campo magnetico sempre diretto da nord a sud qui il filo è orientato come la corrente quindi a salire quindi L vettor B qui produce una forza quindi verso sinistra queste due forze a parità di lunghezza di tratto del filo di intensità della corrente perché qua scende qua sale ma l'intensità è la stessa producono due forze che se la struttura è rigida si annullano si bilanciano mentre nella parte di filo orizzontale la forza è diretta verso l'alto quindi se questo filo è flessibile questa barra se la corrente è sufficientemente alta cioè supera un certo valore minimo si alza qui la forza anche qui rosso è diretta verso l'alto che quindi se faccio in modo che il filo sia percorso una corrente sufficiente a un certo momento questo lo vedo proprio che viene buttato fuori dal campo magnetico verso l'alto se invece faccio sì che la corrente giri in senso opposto la forza è verso il basso quindi va a aumentare l'effetto del peso quindi viene schiacciato verso il basso quindi cade verso giù ok ci sono domande vediamo se c'è un qualche altro esercizio ancora qualche minuto ce l'abbiamo vediamo per esempio così prof prego ma nel 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 caso che abbiamo appena fatto se ci fosse una forza a peso che bilancierebbe la forza di Lorenz il circuito potrebbe in un certo senso levitare sì certo se voglio allora qui l'esercizio si concentrava su questa parte non so se riesci a vedere la lavagna questa parte del del circuito ok allora se qui immagini che i due fili di sospensione siano molto più leggeri di questa barra non contribuiscono alla massa essenzialmente dell'asta suppone che questa parte la batteria sia appoggiata su un piano magari superiore ai poli del magnete se ho modo di inserire una una forza elettromotrice tale da procurare una corrente sufficientemente elevata il filo proprio sale sale verso l'alto come dici tu levita ok ma sì ma pensavo che siccome c'è solo la forza salta verso l'alto e non è che poi torna giù beh certo beh salta verso l'alto finché rimane nel campo magnetico quando esce il campo magnetico la forza magnetica viene meno quindi la forza peso vince ma io pensavo se c'è questa forza e supponiamo che il circuito anche se non è così abbia un certo peso sì il circuito cioè la forza peso controbilancia la forza di lorenz e quindi il circuito deve io dico levitare nel senso che deve rimanere in conflitto dello spazio senza muoversi sì la forza magnetica può bilanciare la forza peso sì ok attenzione però perché se il allora non so se vedi bene la figura se consideri se tutto il circuito fosse immerso nel campo magnetico ok quindi anche la parte superiore sopra la corrente è diretta se qui è diretta da destra da sinistra verso destra sopra è diretta nel senso inverso quindi la forza magnetica nel ramo superiore è opposta a quella nel ramo inferiore ok di conseguenza perché avrei qui ho i vettor b va verso l'alto qui i vettor b va verso il basso quindi le due forze si bilanciano quindi il circuito se fosse completamente immerso nel campo magnetico cadrebbe verso il basso perché lo potrebbe bilanciare il peso bilancia il peso solo se ho solo una parte di circuito dentro il campo magnetico se ce lo metto tutto quello che guadagno quando la corrente va verso destra lo perdo quando la corrente va verso sinistra e ahimè la corrente deve fare un percorso chiuso come abbiamo visto quando abbiamo fatto i circuiti ok quindi se voglio levitare o far sollevare la mia asta percorso da corrente questa qui in basso l'altra parte del circuito deve essere fuori del campo magnetico e deve essere sostenuta in qualche maniera ok se se invece meglio ancora diciamo più in generale solo solo una parte del circuito è immersa al campo magnetico e quella superiore è esterna al campo allora si posso fare in modo che la corrente sia sufficientemente intensa da sollevare non solo questo ramo di circuito ma tutto l'intero circuito posto che la parte superiore sia fuori del campo magnetico se no la parte magnetica della forza quando la corrente ha il verso opposto bilancia quella del ramo di sotto che sono punti a capo ok ma se i fili sono flessibili si è impossibile alzare tutto il circuito in che senso alzare tutto il circuito è impossibile cioè se la barra sotto ha una forza verso l'alto sì direi che devo avere solo la parte sotto dentro il campo magnetico esatto è quello che ho appena detto sì altrimenti se l'intero circuito è nel campo magnetico quello l'azione della forza sul filo diciamo così in basso è opposta a quella del filo in alto siccome le due correnti fanno parte del stesso circuito lo stesso circuito ha tanta forza magnetica che lo solleva quanto quella che lo abbassa quindi le due forze tra di loro si cancellano e rimane non bilanciata la forza peso se invece solo parte del circuito è messo nel campo magnetico allora in quel caso sì posso fare in modo che il circuito sia sospeso per aria per capirci sì ma se vorrei fare tutto il circuito i fili non devono essere flessibili certo 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 o comunque devono essere collegati in modo rigido alla parte superiore certo questo è ballassessi altre domande ok ok